No, va bene dai, se vuoi andiamo da polo Sì, anche perchè io sono in schermone rinfinito, che si serve a peschino Troppo peggare Ah, no, adesso mi ha... appena l'ho detto Eh, di allontare fin seno sempre Vabbè, ma tanto... Oddio, gli stiamo andando in faccia, credo Dalla mappa gli stiamo andando dritti Oh, sì! Sì, mano! Sì, ma si affondasse Pollo, non è che sulla mappa c'è il suo rinforo Eh, eh, eh Sì, sono molto rinforito Non abbiamo finito le palle, purtroppo Guarda, guarda, di me che si sono atterrati tutti gli altri Cazzo Comunque, Fede Come prima, visto che oggi sarà la serata delle mappe speculari Sto andandole, che è venuto a cercare le source Mi hanno ucciso E' fantastico che mi insultano e poi muoiono subito, no? Purtroppo E' questo scivaffa E' perchè ci sono due ciborme che si continuano ad abbordare e io arrivo a caso E' cazzo bellissimo Tra un po' Le incendiarie non servono a un cazzo Eh, lo so Io ho due esplosive in tasca che non sentiamo di rinforzare Dove cazzo ci hanno le risorse, questi? E' un cizzo po' guarda Allora, Fede, risorse sul ponte E' una cazzo di ponte Ma di quale nave? E' la base delle scale, quella fa lontana Comunque, io ho girato la nave e gli stiamo tornando addosso Gli mi sono cannoneggiato, non sono in nave E gli ho rubato dei flare Oh, forse un galeone sta cercando di ripartire e stanno tenendola ancora, tipo Merda, c'è un muscolo in qua Sì, c'è una squadra Dottalendo su quella Mi hanno ucciso Dai, dai cinque Certo che son forti, eh? Sì sì sì, son fortissimi Non riesco a ucciderne uno Non riesco L'ho archibugiato e spadato due volte E non è morto Ma che guarda, il ping di questo server non aiuta Quella non è essere forte Quella è mangiata tanta cibo buona Vabbè, non è banana Io è banana No, però c'è ogni volta che ho bordato mi sono ritrovato tre persone in più subito Ah, ok, allora, che bene Sono attento Sanno quello che stanno facendo Tutto guarda che arrivo sulle cose dei dannati Sul traghetto E la porta è aperta Quindi insomma, queste sceglie persino si vede su tutto più Beh, vedi, tutto più tranquillo Sì, non succede fin niente Prova ad andare sul galleone più lontano da noi Sappi che appena le navi girano Mi hanno ucciso subito per ogni impedito di tenere sull'acqua Ne ho ucciso uno ma mi hanno ucciso Il bello è che noi non c'entriamo assolutamente nulla in tutto ciò Infatti siamo la guerra di Lancia Secondo me loro non ho capito un cazzo Non riescono a capire chi è chi Oddio Un dubbio ranta ne basta Ecco questo qua dice Average Jojo be like Un'altra probabilità che adesso ci siamo scontrati così di qua Una nave va a fuoco Prima dovevi vedere prima quanto andavano a fuoco Perfetto Forse questo di KhanCob non ha Un'altra attenziale che mi ha spettato Mi hanno sparato vai 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 Mi ha ucciso uno E' bellissimo essere proprio i personari Dovrebbero mettere una meccanica che puoi ottenere del loro in gioco Tipo ti fai pagare Li ho ancorati Federico Cazzo bellissimo Mi date 50.000 monete e vi aiuto ad affondere l'altra nave Ci ho ancorati ma prima c'era da buttargli le casse in acqua Eh si può sempre fare forza del caos Oh comunque che non è ancora una garanzia Cialuppa con cannoni a casa di stoccaggio Peccato che poi non è sul nostro server Se non non è col brigandese Eh sarebbe fantastiche Eh è vero Vabbè c'è un forte digannato caldo caldo per voi Dai Non potete così male Sì 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 Io ho cercato di metterci in mezzo ai due galeoni ma non ci sparo non sono troppo impegnato Sì 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 No Merda L'altro ripartito provo a salire ma non garantisco nulla Eh mi danno subito ucciso Ne ho deciso una in acqua Ma questa nave di via Che sto Mi sembra più di chi è un canale a caso che sparo No il fatto è che non ho frutta Ne ho ucciso uno e un altro e l'ho buttato in acqua ma mi hanno ammazzato Quattro banale Tutto Beh insomma sei quasi carico da QVP per Per Nick 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 Loro Barili vuoti Si sono affiancati adesso si abbordano brutalmente Ma che bel tiro Fede mi sono tirato subito dopo di te per te per farlo schiena ho ucciso quello che teneva l'ancora come cazzo fanno uccidere stanno tirando su il seguito di rato sono da maschile citato dimostrarà anche il commento per soltanto quando è il nostro arrabbiato se ne sono due si insultano tantissimo ho ucciso uno a cazzo tirando un'esplosiva sul pantello altra nave il mio ping adesso 80 abbiamo bisogno signori io non mi sono